In questo breve video vedremo quali vantaggi offre il nuovo CS80002 3D Neo Edition a te, al tuo personale e ai tuoi pazienti. Useremo uno scenario CareStream Dental come esempio. Una volta che il paziente è stato inserito nella worklist di CS Imaging 8, si seleziona l'esame che si desidera eseguire. Iniziamo con una panoramica. Nella parte inferiore della pagina appare il pulsante Panoramica a bassa dose. La dose di radiazione standard è dimezzata, pur mantenendo una qualità dell'immagine eccellente. Vediamolo meglio con due panoramiche dello stesso paziente. La prima immagine è stata acquisita a una dose standard, 120 mg per centimetro quadrato. La seconda panoramica è di qualche mese dopo. È un'immagine di controllo post intervento. È stata acquisita a bassa dose, 60 mg per centimetro quadrato. La posizione del paziente non è esattamente la stessa, ma è difficile trovare differenze tra le due immagini. La qualità dell'immagine a bassa dose è anch'essa molto buona e più che sufficiente per il tipo di controllo. Tra l'altro, il tempo di scansione è stato fortemente ridotto, di circa 7-8 secondi, il che è molto utile per gestire il potenziale movimento dei bambini. Vediamo gli altri vantaggi e i miglioramenti apportati in 3D. Nel programma denti, il campo visivo 4x4 è stato esteso all'uso su pazienti morfotipi più grandi, consentendo un risparmio della dose. È stato aggiunto il campo visivo 5x8 per visualizzare i denti antagonisti e quindi analizzare l'occlusione per i casi di implantologia. Nel programma mascellare, sono stati aggiunti i campi visivi 10x10 e 10x5 a quelli esistenti, il che consente un buon equilibrio per l'esposizione di un'area sufficiente alla dose di irradiazione. Anche il programma a bassa dose è stato migliorato, aumentando la risoluzione dell'immagine da 400 a 300 micron. Nell'esempio seguente, due diverse risoluzioni LD della stessa scansione, è possibile vedere che la nuova risoluzione più alta, immagine a destra, mostra una maggiore nitidezza, mantenendo al contempo un livello di rumore accettabile nell'immagine. Osserviamo in modo specifico la migliore differenziazione tra le radici, denti 13 e 14, le ossa corticali e alveolari e gli spazi PDL più visibili. Ideale per l'otodonzia. Grazie per aver guardato questo video. Ci auguriamo che possa aver fatto comprendere come il nuovo CS8200 3D Neo Edition, con la sua qualità d'immagine eccellente e la riduzione della dose, possa contribuire a migliorare la tua esperienza clinica. Non perderti gli altri vantaggi e i benefici spiegati negli altri video.